Allora, ecco al volo, avendo poco fa parlato della scena hip hop degli anni 2000, fine giorni nostri, avevo appunto accennato in maniera anche sostanziosa a Eclipse, un trio di producer bianchi di Los Angeles, nati intorno al 2010 in California, Los Angeles. Allora, proprio oggi mi è arrivato questo loro secondo album, che lo aspettavo, lo aspettavo per oggi effettivamente, che era l'unico che mancava nella loro mia discografia della Sa Pop, perché loro hanno una produzione tutta di ottimo livello, senza un passo falso, e questo è il loro secondo album, che viene due anni dopo l'omonimo Clipping, però levandoci le vocali, quindi Clipping, che era il loro album forse più hip hop, quello un po' ancorato a meno sperimentazione e più hip hop classico, però già un hip hop fuori dalla media comune del hip hop radiofonico, ecco, diciamo che aveva delle bizzerie delle sperimentazioni anche lì, aveva qualche corretto gospel magari messo un po' fuori posto, ma dei featuring un po' non proprio azzeccati, ma comunque un ottimo biglietto da visita. questo qui è stato secondo me un po' bistrattato, Splendor and Misery, uscito due anni dopo nel 2016, sempre per la Sa Pop, perché qui hanno cominciato a farci giù pesante con la sperimentazione. Probabilmente non è stato capito a pieno, è però un trade union tra il primo clipping, quello omonimo del 2014, e il capolavoro The Reason Addiction to Blood del 2019, cioè di tre anni dopo. Diciamo fa da ponte e il disco del 2019 è un giusto mix tra le sperimentazioni estreme di questo disco qua e il rapping del primo album. Cioè qui forse si eccede un po' troppo nell'industriale, se questo può essere un difetto, però devo dire la verità, secondo me Piero, un amico Piero Scaluffi, è stato un po' troppo rigido questo disco, io un buon sei e mezzo glielo do, se non conto, è tutta quasi sette, non lo trovo così, cioè lui non è che ne parla male, però glielo dà sei. Secondo me è meglio del primo, perché è più originale rispetto a Clubbing, non è forse a livello appunto di quelli successivi su Sa Pop, quelli neri che dicevo evidenti, però insomma questo è un bello scossone pellurico, che l'ho finito di ascoltare adesso, sono 15 brani, quindi un vero album, ci sono dei drone un po' strani, un po' sembrano, sembrano, tipo i Trobbing Crystal di DOA o Second Annual Report che fanno hip hop, grosso modo, con qualche strano drones dentro, di organistico da chiesa, un po' come, diciamo, poi dopo ha provato a fare un po' maldestramente Ken West in Donda, però lui l'ha fatto proprio in versione soul, proprio traditional soul, non gli è riuscito tanto bene, qui stiamo sempre in un ambito molto più sperimentale, e ragazzi questo disco a me piace, io lo consiglio, l'ho pure postato sulla mia bacheca YouTube, l'ho messo pure nelle storie di Instagram, a me piace, non capisco il set di Piero, capisco che è un'opera ovviamente ancora di passaggio, perché lo stile non è quello proprio, che noi conosciamo dei clipping, quelli proprio della maturità, però è un hip hop elettronico molto industriale, ma un industriale non stucchevole, molto raffinato, ecco, per me questo disco vale 6,5-7, che vedo di a me piace, me lo so goduto, i flow sono buoni, forse un po' meno potenti rispetto ai dischi successivi, c'è meno enfasi nel battito, vabbè che poi loro sono insomma infatici, fino al no, non lo sono un po' infatici, c'è giusto un po' di beating un po' più pronunciato nei dischi successivi, cioè io lo preferisco al primo, ad essere sincero, il primo è quello secondo me è ancora di rodaggio, anche se chiama l'hip hop, ma più il primo perché è quello più hip hop, però per me, ho ascoltato, vuoi fatemi sapere, secondo me qui 6,5-7 ci stiamo, 6,5-7 ci stiamo e non dire devi citare un pezzo tra l'altro, perché anche qui pezzi più o meno lunghi, più o meno elettronici, più o meno industriali, lo stile lo conoscete, vi posso dire che è il disco più industrial e sperimentale che abbiano mai fatto, e poi anche la copertina insomma è abbastanza carina, originale, che richiama un po', sembrano quelle della Ralph Records dei Residence, buon ascolto!